Non è successo niente, questa è la risposta, non è successo niente qua, questi sei. Vergogna, 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 assassini, 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 assassini. I soldi sistemano tutto, non è fatto niente mai, cazzo a soldi tutti su tutto. Criminali, siete criminali, quale giustizia? Dov'era giustizia? Dov'era giustizia? Gli avvocati avevano un po' di regole noi, regole che fanno voi. Lei per una coppia mi ha detto che siamo. La poppia è uscita nel giorno delle morte, vero? Sanno proprio, guarda, è data con dolore ancora di più. Assassini! 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 Signora, io le chiedo solo di dirmi in una parola, ecco, quel che sente di dovermi dire con quel che ha sentito adesso. che ha fatto un po' di regole? No, non c'è per me. E' un po' di regole. 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 onia quello che lavorava qui ti knopella Per tutti. Il suo marito nell'inizio